Soltanto i popoli incivili non hanno memoria. Luciano Violante lo ripete presentando la Biennale della Memoria, iniziativa che partirà a maggio del 2016 ma avrà un'anteprima dal 24 al 27 settembre prossimi. 24 incontri dedicati ad anniversari diversi tra loro ma ugualmente importanti dalla nascita di Bach alla fondazione di YouTube. E due città come Scenario Matera e Martina Franca, le regioni sono diverse, la storia è comune, descritta sulla pietra, lo hanno ribadito più volte i sindaci De Ruggeri e Ancona davanti al governatore Emiliano, di suo più che convinto della necessità di riannodare fili tra Matera, che nel 2019 sarà capitale della cultura, e la Puglia. Con il progetto della metropolitana Bari-Matera ma anche con altre infrastrutture, se il sindaco della città dei Sassi ha in mente il collegamento autostradale con il casello di Gioia del Colle, Emiliano annuncia che richiamerà l'attenzione di Renzi, atteso sabato in fiera, proprio sulla questione infrastrutture. Puglia e Basilicata insieme hanno scritto una storia di riscatto e di orgoglio dei propri territori, ha detto Emiliano, non sono mai state regioni che hanno fatto pianistei. La Biennale sarà un altro tassello in comune, messo usando la memoria come una grande piattaforma umana, sulla quale si incrociano le scienze più diverse, medicina, musica, letteratura, cinematografia. I temi ricordati dal presidente dell'Enciclopedia Italiana, Treccani, Franco Gallo, verranno affrontati da scienziati e da personalità di prestigio nazionale e internazionale.